Questo programma è offerto da Tecnocampus Giovedì 4 aprile, buongiorno da Teleprima Benvenuti alla quotidiana Rassegna Stampa, anche questa mattina come ogni giorno è offerta da Tecnocampus Cominciamo subito a vedere quelli che sono i fatti in primo piano Considerando che ci sono ancora tante polemiche per quanto riguardano i rapporti tra il governo, all'interno del governo Soprattutto in relazione alle banche, ancora tanti problemi con Tria Ma le situazioni sono le più disparate Insomma cominciamo subito senza tanti indugi a vedere le pagine dei quotidiani nazionali Partiamo questa mattina col Corriere della Sera E vediamo che proprio in apertura ci sono le banche, accordo sui rimborsi Caso Tria, Conte esclude dimissioni Salvini, chi lavora bene non ha timori ma è ancora tensione E oggi la norma per i risparmiatori, no alla castrazione chimica di Maio Preoccupa la deriva a destra della Lega Infatti è trovata l'intesa sui rimborsi ai truffati delle banche La norma sui risparmiatori arriva oggi in Consiglio dei Ministri Se l'intesa non chiude le polemiche intorno al Ministro dell'Economia Giovanni Tria Il Premier Giuseppe Conte esclude la possibilità delle sue dimissioni Chi lavora bene non ha niente da temere Dice infatti il Vice Premier Matteo Salvini La maggioranza si divide sulla castrazione chimica Infatti Movimento 5 Stelle vota insieme a PD e Forza Italia e anche Leo Mentre pensate un po' la Lega si schiera con Fratelli d'Italia Nella cui emozione viene bocciata La riproporremo in un disegno di legge annuncia la Ministra Giulia Buongiorno ed ancora vediamo le altre notizie Ed eccoci ancora all'Italia che non decolla Il terzo tempo a corto di idee nel rugby Il terzo tempo arriva infatti quando le due squadre si ritrovano davanti a una birra Dopo la partita In politica invece all'epoca dei populisti E' un po' meno rilassante anche per loro sarebbe il momento di lasciar stare le mischie o i calcioni Sferrati a casaccio per guadagnare meriti E intanto vediamo nella parte sinistra della pagina Lasciamo la parola a Cassese La tutela politica che torna Il sistema bancario e finanziario e i suoi controllori Senza distinzione tra buoni e cattivi Tra colpevoli e incolpevoli Sono sotto accusa Non si era mai visto un Parlamento Che mettesse sul banco degli imputati un intero settore dell'economia importante come quello finanziario Ci sono stati risparmiatori indotti a comprare prodotti finanziari ad altro rischio Da alcune banche minori o di medie dimensioni Il Parlamento ha disposto con la legge numero 28 del 26 marzo scorso L'istituzione di una commissione d'inchiesta Che per la durata e l'ampiezza del mandato Le finalità ai porteri più vasti di quelli della precedente commissione Casini ha le caratteristiche di una super procura E ancora vediamo le altre notizie Che racconta questa prima pagina E vediamo che si parla di sport Calcio sconfitto a Genova per 4-0 Anche il Napoli perde E il Torino batte la Sampa Icardi riappare e segna L'Inter torna a correre Questo infatti il ritorno di Icardi Il centroavanti argentino scende in campo Dopo 53 giorni Senza fascia di capitano E trova anche il gol Un 4-0 senza storia Contro Genua Di Gagliardini Doppietta E per esice le altre reti Napoli sconfitto a Empoli Il Toro batte la Sampa E nella colonna di destra Andiamo a vedere gli altri fatti in primo piano Roma il viaggio del quartiere I nomadi se le vanno Ma rimane la protesta Una protesta contro Roma Nella zona di Torre Maura di Roma Che è finita solo perché i nomadi Sono stati trasferiti E anche quando erano in partenza Sono stati accompagnati dagli insulti I PM indagano per odio razziale Il quartiere Non siamo xenofobi E ancora un altro brutto fatto di cronaca Che arriva questa volta da Genova Circonciso in casa Morto un altro bimbo Arrestate mamma e nonna Un altro neonato morto infatti Dopo una circunzione in casa A Genova arrestate la mamma e la nonna Oltre a un africano Considerato dalle donne Una specie di santone Che sarebbe l'autore dell'intervento Stava scappando in Francia Ed infine nella parte bassa della pagina Notizia che arriva dal Brunei Lapida gay e adulteri Questa è la rivolta contro appunto Il Brunei Il sultanato della legge Vicina alla Sharia Infatti lapidazione per gay e adulteri Il sultano del Brunei Che cosa fa? Ha introdotto la nuova legge Ispirata alla Sharia Ma sono arrivate le critiche Che ONU e Unione Europea Hanno apertamente disapprovato la scelta Il sultano porta concordia Questa è la sua interpretazione dei fatti E secondo il sultano Questa sarebbe la linea giusta da seguire Ovviamente i paesi occidentali Quelli cosiddetti civili Rappresentano proprio la situazione opposta Almeno così sembra E continuiamo ancora a vedere le altre notizie In primo piano Ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano E partiamo dall'alto La compravendita di sottomarini tedeschi Della Thyssen a Israele Mazzette e corruzione Diventano un altro siluro Contro Netanyahu Alla vigilia del voto E intanto ritorniamo in Italia I borsi ai truffati Tria fa come gli pare Niente accordo Vuole lo scudo per i funzionari Infatti dopo settimane di tensioni C'è un'intesa tra il Ministero dell'Economia E Palazzo Chigi I risarcimenti verranno pagati Ma solo con uno scudo Che tutela i funzionari del tesoro Dalla Corte dei Conti Ed ancora il Comune Dà 100.000 euro agli ultracattolici Questo è accaduto a Verona E il Sindaco Sbarina Ha regalato location e servizi Anche le Ollus Che utilizzano i palazzi pubblici Per le loro manifestazioni Sono tenute a un indennizzo Non nel Congresso delle Famiglie In Spagna Dove il Movimento è nato Il Papa Ha voluto evitare la visita Ed ancora vediamo Nella parte centrale L'articolo di apertura Tutto dedicato all'Europe Manuale pentastellato Per prendere le distanze Da Carroccio 5 Stelle Ecco la dichiarazione Di guerra alla Lega In 12 punti Infatti due alleati Ufficialmente E avversari per il voto Una lista di punti Per concordare Su quali temi Il Movimento 5 Stelle Si è imposto Sui leghisti I sondaggi Dicono appunto I sondaggisti La Lega ancora alta Ma ferma lieve Il recupero delle 5 Stelle Ed ancora vediamo Nella parte più bassa Processata a Torino È di 27 anni Così ho combattuto 9 mesi Con le donne Curde Ed infine Nella parte bassa Della pagina Computazionale PD e Forza Italia Vogliono ruinarci Fin da piccoli E come lo vogliono fare Con una grande idea Che viene definita Appunto Un'ideona Algoritmi Anziché latino L'italiano Non è l'italiano È il ragionare Sugiamo come una Come a una fonte limpida Queste parole Di Leonardo Sciascia Per disinquirarci Dalla pletora Di gridolini Che giungono Dagli ambienti In del pensiero Contemporaneo Si apprende Che l'imprenditore Iraniano Adi Partovi Che leggenda Multitazionale Vuole aver vissuto Sotto le bombe Essere immigrato E negli Stati Uniti A 11 anni Aver conseguito La laurea Ad Harvard Ed essersi Diventato Ed essere diventato Ricchissimo In Microsoft È il guru Mondiale Della coding Manual Dove ciò Si è detto Con pardon Si deve A privati Se oggi A nelle scuole D'America 25 milioni Di studenti Imparano Imparano A scrivere Obbligatoriamente Codici Informatici Insomma Secondo Daniela In questo Articolo Di Piede È proprio Questo Che fa La differenza Tra la cultura Inna E la cultura Che ormai È quella Considerata Di bassa rega Ossia Non più La grammatica L'italiano Il latino Le origini Della lingua Quando piuttosto Gli algoritmi I codici Che alla fine Che cosa Determinano La comprensione Di quello Che il sistema Binario Decodificato È comunque Qualcosa Che porta Alla conoscenza Della programmazione Probabilmente Hanno ragione Ma senza rendersi Conto Che alla base Di tutto questo E alla base Del ragionamento Ovviamente C'è sempre La grammatica Il latino E tutto ciò Che la lingua Ci inaugura E ci detiene Come perrimato Appunto Della vita stessa E ancora Continuiamo a vedere Le altre notizie Le facciamo Sui quotidiani nazionali Ci spostiamo adesso Su quotidiano libro E vediamo Che nella parte alta Della pagina C'è un titolo Che è piuttosto Critico Il governo Chiede l'elemosina Il decreto Sulla decrescita Nel documento Per far ripartire L'economia Pochi investimenti E zero tagli Delle imposte Ma condoni Su IMU IRAP Tasi E la vendita Degli edifici pubblici Insomma Nuove liti Sui rimborsi Ai risparmiatori Truffati E intanto Vediamo Che i comunisti Cambiano Ma come In peggio Zingaretti E un genio Pretende La patrimoniale La pressione fiscale È schizzata Al 48% E il potere d'acquisto È calato ancora Ma il PD Pensa adesso Di tassarci Ed ancora Ma che razzismo Ci spostiamo Una volta a Roma Nell'editoriale Di Feltri Non volere i rom Sotto casa È legittima difesa E i romani Sono insorti Contro i rom Non li vogliono Sotto le proprie case Perché hanno il timore Di essere derubati Difficile Dagli torto Anche se deploriamo Le loro azioni Violente Però Quale altra forma Avrebbero a disposizione Per protestare E questa è la lancia Che viene lanciata Proprio Sugli zingari Da questa situazione E soprattutto Da quella Che è la politica Attuale Ed ancora Vediamo Gli altri fatti In primo piano Proprio Nella politica Ancora una volta Si è discusso Di castrazione Chimica Eppure Si è arrivati A uno scontro Di tutti Contro tutti Infatti Salvini E Meloni Sono proprio All'opposto Di tutti Gli altri partiti Infatti La leader Di Fratelli d'Italia In Polonia Patto tra conservatori Alla fine Come in un piano Inclinato La pallina Rotora giù Succede Nella votazione Di un ordine del giorno Presentato da Fratelli d'Italia Nella seduta finale Sul codice rosso La legge Contro la violenza Alle donne Il testo Che dovrebbe impegnare Il governo Ricalca Pari pari In emendamento Sulla castrazione Chimica Quello che la lega Aveva presentato Il giorno prima Martedì Salvo poi Ritirarlo Per responsabilità Per evitare Lo scontro L'ennesimo Con l'alleato Pentastellato Ma fatto il servizio E imitati Dall'esultanza De Grilini Per aver costretto La lega Al passo indietro Scatta la reazione D'orgoglio Di fronte al dilemma Di ingoiare Un altro rospo Oppure votare il testo Insomma Ed è stato Ripresentato Questo Emendamento E comunque La situazione Si presenta Allo stesso modo Ossia Respinto E ancora Vediamo Com'è facile Tenere la famiglia In Ungheria E questo è quello Che racconta Appunto oggi Questo quotidiano Il congresso Delle famiglie Di Verona Il governo Ha litigato Per settimane Eppure Lì si è trovata La chiave La chiave Per la crescita In Italia Piuttosto che Legare Il patrocinio Al presidente Giuseppe Conte Convediva Metterci Il cappello Che invece Resta saldo Nelle mani Di Matteo Salvini Anche perché È proprio Dall'ugheria Del suo amico Victor Urbana Che può venire L'ispirazione Ovviamente Non serve Distribuire Soldi A pioggia E infine Nella parte bassa Della pagina La vita I segreti Di Mia Canestrina E la bellissima Che balla Con i lupi E ancora Vediamo Qui In questa prima Pagina Di Libero I cretini Della circoncisione Domestica Muore un bebè A Genova Il secondo Pensate un po' In soli Trenta giorni Quindi in un mese Già due bambini Morti per questa pratica E ancora ci spostiamo Sul tempo Triabeffa Salvini Di Maio e Conte Il titolare dell'economia Dopo avere promosso La collaboratrice Che gli contestavano Mette tutti nel sacco Sul decreto Rimborsi ai risparmiatori E tre costretti A subire Il diktat E ancora scendiamo In questa prima pagina Ma il ministro Ha un problema Due zarine E intanto Presi soldi Per i minori Li buttavano fuori Di notte Il sistema Scogitato Da un'ollus romana Per lucrare Sui fondi Dell'accoglienza 16 arresti E ancora via I Rom Da Torre Maura Ancora attenzione In strada Crolla intanto Il soffitto A scuola Bimbi salvi Per miracolo Tragedia Sfiorata Monteverde L'ennesimo caso Intanto per lo sport All'Olimpico Finisce 2 a 2 Un punticino di rabbia La Roma Ferma la viola E surreale La decisione La decisione La decisione dell'arbitro Fanta rigore Per la SPAL Lazio Beffata 90esimo E 0 a 1 E ancora Vediamo gli altri Fatti in primo piano Eccoci qua Al VRomix Oltre ai cartoni Spazio anche a youtuber E videogiochi I fumetti Invadono in questo modo La capitale E ancora Di invasioni Si continua a parlare Ma invasioni Di informazioni Che arrivano dal giornale Meno soldi Alle mamme Questo è l'articolo Di apertura Di questa testata Governo senza cuore Altro che aiuti Eliminati I bonus Asilo nido E babysitter Listat certifica Crolla il potere D'acquisto Delle famiglie E ancora Vediamo Salvate l'Italia Dalla tolleranza Rivolta Anti Roma A Roma E Alessandro Sallusti Racconta Questa situazione Infatti Di solito Quando accade Un fatto Di un certo rilievo Uno si fa un'opinione E sceglie Da che parte stare Cosa difficile Se parliamo Di quello Che è avvenuto L'altra sera A Roma Quartiere periferico Di Torre Maura Lì dove già ci sono Un paio di centri Di accoglienza La sindaca Raggi Ha provato A insediare Pure un nuovo campo Roma E là E immediatamente Scattata La rivolta Di un gruppo Di residenti Guidati dagli attivisti Di destra Di casa Pound Hanno ingaggiato Una vera battaglia Con i nuovi arrivati E la polizia Arrivando pure A incendiare auto E distruggere Il pane Preparato Per la prima cena Degli zingare Insomma Una situazione Veramente Surreale Ed ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Sul giornale I buachen Non solo razzismo Ma nessuno Giustifichi Gli ultra Le parole di Bonucci Diventano adesso Un vero e proprio caso E intanto Vediamo Pasticcio Dei rimborsi Tria Ricattato Si arrende Pace armata Sulle banche E intanto Il sarto Dei capelli Che aveva 85 anni È morto Stiamo parlando Di Gianluigi David Il parrucchiere Diventato Un vero e proprio Impero E intanto Le analisi Ancora una volta Sulla politica L'assalto al tesorio Di Maio non molla Via do quel volto Premier virtuale Ma Salvini Rischia di finire In trappola Ed infine Nella parte bassa Della pagina Eccolo qua Quei capolavori Nascosti nel novecento Italiano All'anticipazione Del nuovo libro Di Sgarbi E intanto Una sentenza Che fa storia Alla vita Non è mai un danno Germania Non è accanimento Terapeutico E con questa ultima notizia Di questa prima pagina Del giornale Ci fermiamo un attimo Ma giusto qualche minuto E poi ci ritroviamo Subito dopo la pubblicità Non andate via Non andate via Non andate via All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus, la soluzione al centro Di nuovo in studio, giovedì 4 aprile, continuiamo questa rassegna stampa la continuiamo con le testate nazionali, in particolare adesso andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica Il nostro odio metropolitano, così apre questa mattina la Repubblica Roma bombe carta, saluti fascisti e insulti dopo la vergogna del pane cacciate da Torre Maura alle famiglie Rom del centro di accoglienza Viaggio nel quartiere delle troppe emergenze, noi ultimi negli ultimi Ed ancora vediamo, eccoli qua il saluto fascista La destra e l'ultra destra, terra veramente dei naufraghi e non solo quelli che arrivano dal mare Ed ancora vediamo nella parte destra della pagina Atria non molla, resa dei conti dopo le europee Intanto un'intervista a Guzzetti C'è del veleno nella nostra democrazia Ed intanto vediamo ancora nella parte bassa della pagina Pedro Sanchez alla sinistra tornerà a vincere solo se recupera i propri valori E ancora i funerali della Nato raccontati in questo pezzo Sempre dalla Repubblica Ancora andiamo a vedere le altre pagine dei quotidiani nazionali Ci spostiamo adesso su il messaggero Periferia contro raggi, basta Roma Rivolta a Torre Maura Ancora tensioni, trasferiti 18 dei 77 nomadi Sindaga per odio razziale Salvini, bacchetta la sindaca Il metodo è sbagliato Lira del Campidoglio, stilurata la dirigente E intanto vediamo nella parte sinistra della pagina La solitudine dei romani La capitale, quel senso di ingiustizia inascoltato E ancora vediamo un reportaggio Viaggio nei campi polveriera di Roma Qui si rischia la violenza di massa E ritorniamo alla politica italiana Banche, ispiragli su salvatruffati di maio a tria Cambi del decreto E sull'autonomia la riforma è bloccata Mentre il codice rosso via libera alla Camera Il governo si divide ancora una volta sulla castrazione E intanto nella parte centrale lo sport Ragneri 2 a 2 con i viola Varrespa, Lenzaghi Ha una bella finale a 1 a 0 La Roma non sa più vincere Poca Lazio brutta frenata Ed intanto vediamo nella parte bassa della pagina Oggi la presentazione tecnica wireless Pensate un po' per camminare Manuel ora spera E diciamo la verità Questo ragazzo che è stato colpito qualche mese fa Da altri ragazzi come lui Adesso non può camminare Sta sperando nella tecnologia Ma lo sta facendo Lo sta facendo dal primo momento Non ha almeno all'apparenza Non si è mai abbattuto Ma ha continuato a dire io ce la farò E questo è il primo passo Per poter riuscire in quello che si è prefissato Ossia tornare a camminare E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Ci spostiamo sulla prima pagina del mattino E vediamo nella parte alta della pagina Oggi via al Salone La Capria, Libri e Porto Fanno della Mia Napoli Una città sempre aperta E questo lo andiamo a vedere dopo Nelle pagine online Il nuovo libro Ruggero Capuccio E l'atto di accusa di Borsellino Un uomo solo E intanto vediamo nell'articolo di apertura Banche elite sul salvatrufati Di maio a tria Così non va Il leader dei 5 Stelle Stoppa il ministro del tesoro Sempre più in bilico Ma Conte esclude le dimissioni Oggi il pacchetto crescita in consiglio Infatti in intesa sul decreto Salvatrufati delle banche Sembrava cosa fatta Ma da di maio è arrivato Un brusco stop al ministro Tria Quella norma non va bene Non posso accettarla Il ministro del tesoro Sempre più in bilico Ma Conte esclude le dimissioni Oggi il pacchetto crescita Arriva in consiglio dei ministri Ed intanto vediamo l'analisi Per quanto riguarda la campagna I costi dell'esodo dei malati Ma c'è un rimedio L'esodo dei campani Per curarsi in altre regioni Ha un costo Uno studio Ne analizza gli effetti Ovviamente il costo c'è Ma sicuramente la situazione È precaria Anche nella nostra regione Quindi oltre a verificarne i costi E verificarne tutto ciò Che riguarda i numeri E le presenze Oltre i confini della regione Sarebbe il caso di verificare L'efficienza E soprattutto i servizi Che vengono generati Proprio all'interno di questa regione E ancora il sud Che funziona Perché a quanto pare C'è una parte del meridione Che va bene Nonostante si continui sempre A scagliare pietre Contro questo nostro sud E la Silicon Valley di Napoli Arriva anche la team E infatti team Apre a Napoli Team WCAP In partnership con Ciasco Italia Un'università Federico II Il centro ha una grande ambizione Ossia diventare punto di riferimento Per il rilancio dell'innovazione Di tutto il sud d'Italia Insomma un polo strategico Dedicato all'open innovation Dopo Cisco Italia E qui a Cisco Italia Appunto un ruolo fondamentale Perché servirà a sperimentare Nuove soluzioni In ambito Industry 4.0 Cyber security E smart city Anche attraverso La nuova rete 5G Ovvero i depositari E caposaldi Dell'economia digitale Del futuro E intanto vediamo Il commento A quanto è accaduto A Roma Che viene fatto Da Luca Ricolfi La rivolta Contro i Rom E il vero e proprio Senso di ingiustizia Un senso di ingiustizia Che si respira Un po' Da tutti i fronti E ancora Vediamo Nella parte centrale Della pagina Un'espressione Di Ancelotti Che dice Tutto Il capo a Empoli Il Napoli Più brutto dell'anno Dice Ancelotti Ci manca la testa E intanto Quei cari di tensione Da piccola squadra Brutto come a Salisburgo Giustamente battuto Dalla terz'ultima Ma che Napoli È questo È una settimana Da Londra Insomma L'affermazione è proprio questa Napoli Che cosa vuoi fare Visto che Ti aspetta Una grande sfida Con l'Arsenal Siamo sicuri Che sei in grado Di farlo Questo è quanto si pone Proprio come interrogativo Il Napoli Risveglia Altrimenti La situazione è precaria E vediamo infatti Le pagelle Meret evita il peggio All'anno irriconoscibile All'Empoli difesa Allo sbando Si salva solo Meret Con due interventi decisivi All'anno irriconoscibile Fabian entra Ma non sa incidere E intanto nella parte centrale Della pagina L'inchiesta della DDA Di Napoli Nel Milino Dieci opere Ferrovie L'ombra dei Casalesi Regali e viaggi Per gli appalti Indagati tre dirigenti Di rete ferrovie italiane E il padrino Del figlio di Sandocan Ed intanto Si ritorna a parlare Del caso Di Toni Colombo Il matrimonio Che tanto ha fatto discutere In questi giorni E infatti Gli agenti del carcere Trombettieri Al matrimonio di Toni Sono stati sospesi E questo l'annuncio Che è stato fatto Questo è la resa dei conti Di questa situazione Sempre più intricata Intanto nella parte bassa Della pagina No alla legge Ancora una volta Si parla di castrazione chimica Sia ai fondi Agli orfani Dei femminicidi Mentre a Napoli Costretta a dormire in strada Per evitare Pensate un po' Le botte del marito Insomma situazioni Sempre più Precarie Per le donne E soprattutto Per la vita Che le aspetta Insomma Anche su questo Bisognerebbe valutare Meglio Come agiscono Le stesse donne Chi scelgono E soprattutto Che cosa fanno Nel momento in cui Si rendono conto Che chi hanno accanto È una persona violenta Ancora su questo C'è tanto da fare C'è tanta strada Da percorrere Ma soprattutto C'è bisogno di istituzioni Forti E al fianco Delle donne Quelle donne Sempre più deboli E ancora Vediamo gli altri fatti Ne andiamo a vedere Sulle altre testate nazionali Vediamo adesso Il manifesto La CIA salva 64 migranti Salvini Nave tedesca Ovviamente Andate ad Hamburgo Ma la CIA Ovviamente Contrasta Questa definizione Intanto Giustizia La bomba Si avvicina Stop Al rito Abbreviato E intanto Per la crescita Solo per decreto Che appoggia oggi Il Consiglio dei Ministri Vediamo come titola Il manifesto Ecco qua Scendiamo proprio Sulla prima pagina Crescita Miracolosa E infatti Con sgravi Scali alle imprese Pacchetti di mini Rottamazione A proda appunto Il Consiglio dei Ministri Sul tavolo anche I rimborsi Ai truffati Dalle banche Ma lo scontro Tra Movimento 5 Stelle E Tria Non si placa Conte I ministri Devono stare tranquilli E sembra una vicissitudine Alquanto complicata Visto che I ministri italiani Non sembrano Molto Molto Tranquilli E ancora Nella parte bassa Della pagina Strage continua Si parla ancora Di morti sul lavoro Mentre calano Le tariffe Inaille Anche qui Codice rosso I due maggioranze Di Salvini Si spaccano Sulla castrazione Da un lato Fratelli d'Italia Proprio con la Lega Dall'altro lato Forza Italia Pensate un po' Con Movimento 5 Stelle EPD Insomma Veramente un quadro generale Che ci presenta Un conto Veramente salato E ancora Vediamo la stampa Nella parte centrale Della pagina L'articolo di apertura E su di mai Offerta a Salvini Per il dopotria L'economia alla Lega Il grillino Il grillino pronto Pronto a concedere Il ministero Agli alleati Se vinceranno Le europee Al CDM Due ipotesi Per i rimborsi Ai truffati Delle banche Ma non c'è Intesa E intanto Vediamo le altre notizie La minaccia Di una destra Illiberale Intanto Meloni Noi i veri Sovranisti Matteo È semplicemente Un populista E intanto Il summit di Washington USA all'Italia La via della seta Allarma Ancora una volta La Nato E intanto Nella parte centrale Della pagina Coelho Vivo sulla mia carne La ferita del Brasile Dei militari E infatti A scriverlo E proprio Lo scrittore 28 maggio 1874 Un gruppo di uomini armati Fa eruzione a casa mia Iniziano a frugare Negli armadi E nei cassetti Ma non so Cosa stiano cercando Io scrivo canzoni rock Null'altro Uno di loro Il più grande Mi dice Di andare con loro Solo per chiarire Un paio di cose Insomma E così Inizia questa vicenda Ancora continuiamo A vedere i fatti In primo piano Ci spostiamo Sui giornali economici Con il sole 24 ore E si vede Proprio in apertura Di pagina Class action Si cambia Rischio Ricorsi E costi Critiche Dalle imprese Ed ancora Scendiamo Riforme Taglio Alcuneo E salario Minimo E intanto I risparmiatori Noi ristori Automatici A Israele Intanto è vuoto E le ricadute Negli USA Ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina Rating In vendita L'agenzia DBRS E infine Nella parte più bassa Bomba 6 Sotto il 50% In Brembo Per fare Acquisti O fusioni Ed ancora Ci spostiamo Sempre sulle pagine Economiche Scusate Questa volta Però Su Italia Oggi Professionisti Si potrà Si potrà Aderire La sconfitta Del Napoli A Empoli Per 2-1 A vicino Allegri All'ottavo Scudetto Di fila Può arrivare Già Domenica Intanto Nell'apertura Vediamo Che torna Mauro L'intervola 4-0 Al Genoa Meglio Icardi Che mai Ricore Procurato Gol assist Palo E abbraccia Perisic E compagni Ma Spalletti Lopunge Poteva fare Di più E ancora Nella parte bassa Della pagina Brodino Roma La Lazio Crolla Rimonta Giallo-Rossa 2-2 Con la Viola Ricore Caos Inzaghi Cade Con la spalla E ancora Vediamo Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo Su tutto sport Icardi Torna E segna Questa è vera Inter Genoa Travolto Maurito Anche assist A Perisic E Napoli Triunfo Tonfo Empoli Juve Meno 6 Allo Scudetto Bastano due vittorie Per l'ottavo Titolo di fila E intanto Vediamo Nella parte centrale Della pagina Euro Gallo Euro Toro Belotti Scaterato Firma Una grande doppietta E spegne La Sampa Che limite I danni Con Nel finale Granata Ganciano Lazio K.O. Ferrara Roma 2-2 Con la Fiorentina E Atalanta Al quinto posto A 4 punti Dalla Champions E intanto Nella parte centrale Un'esclusiva Proprio di questo quotidiano La prossima volta Esco La decisione Di Matuidi Rivelata da Pjanic Dopo i bu Di Cagliari Aken Blaise È già stato Bersaglio Dei razzisti Ora basta Chiellini Moise Simbolo Della Nuova Italia Intanto Raiola Durissimo Ci vogliono Punizioni Severe E su queste Punizioni Ci fermiamo Ancora un attimo Qualche attimo Di pubblicità Giusto Una piccola pausa Ma ritorniamo Subito dopo E andiamo a vedere Le notizie Che riguardano La regione Campania E andiamo a vedere All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. E siamo di nuovo in studio, sempre giovedì 4 aprile, continuiamo questa rassegna stampa con i fatti che arrivano dalla regione Campania e infatti andiamo a vedere in apertura di questo primo momento proprio dedicato ai quotidiani online una buona notizia. Infatti si parla di Ischia, la Coppa di Nestore vola al British Museum. Da novembre a marzo 2020 il reperto del museo di Villa Arbusto sarà a Londra. Il cratere del naufragio sarà invece al Mann da settembre per la mostra Talassa. Infatti ambasciatrice dell'isola di Ischia nel Regno Unito, la millenaria Coppa di Nestore volerà dal museo archeologico di Pitt-Cuzet al British Museum di Londra dove sarà esposta nell'ambito della mostra a Troi da novembre 2019 a marzo 2020. È così che quel preziosissimo vaso che risale all'VIII secolo a.C. e che riporta una preziosa iscrizione che costituisce uno dei più antichi esempi di scrittura alfabetica si candida a raccontare al mondo lo straordinario ruolo di Ischia considerato il più antico stanziamento greco in Italia. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Un'altra notizia che riguarda la cultura, questa volta di Napoli, perché oggi apre Napoli città. Libro il testimonial è la capria, scommessa vincente, qui la cultura è di casa. Da oggi fino a domenica a Castel Sant'Elmo 115 espositori, 120 appuntamenti e 350 ospiti. L'obiettivo non è dichiarato ed è raggiungere i 50.000 visitatori anche per rilanciare Napoli, però questa volta partendo dalla cultura. Questa mattina Castel Sant'Elmo apre i battenti Napoli città. Libro. I saloni del libro e dell'editoria promosso da tre editori, Diego Guida, Rosario Bianco, Alessandro Polidoro. Sono previsti 115 espositori in rappresentanza di 160 editori e da tutta Italia 120 appuntamenti che coinvolgeranno 350 ospiti. E lo scrittore Raffaele Lacapria sarà il testimonial della seconda edizione della manifestazione che nel 2018 fu visitata da ben 20.000 persone. Napoli è sempre stata una città colta e questa manifestazione corrisponde appieno a questa sua ragione di esistenza, insomma una scommessa vincente. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ovviamente passiamo agli altri fatti che non sempre sono così positivi, come ad esempio la sconfitta del Napoli di ieri sera. Napoli senza voglia, titola così la Repubblica questa mattina, K.O. a Empoli. Le motivazioni nel calcio fanno la differenza, quelle del Napoli evidentemente erano al minimo. Solo così si spiega il crollo al Castellani contro l'Empoli appena tre giorni dopo la bella vittoria contro la Roma. Gli azzurri sono irriconoscibili e perdono per 2-1 con una prestazione da dimenticare. Manca la giusta determinazione e così l'Empoli conquista tre punti fondamentali per la salvezza. E ancora vediamo le altre notizie. Ancora si parla di cronaca, questa volta si parla dell'ennesimo scandalo che ha riguardato la città di Napoli. Infatti parliamo delle nozze trash, agenti di polizia penitenziaria tra i musicisti in corteo immediatamente sospesi. Ed ecco il qua, infatti traditi dei video postati sul web, c'erano anche 5 ispettori della polizia penitenziaria che suonano la tromba nella banda musicale del corpo di stanza a Portici in provincia di Napoli. alla fastosa e controverse nozze tra il cantante neomelodico Toni Colombo e Tina Rispoli, vedova del defunto boss degli scissionisti, Gaetano Marino ucciso con 11 proiettili sul lungomare di Terracina. I 5 ispettori riconosciuti dalle immagini del matrimonio diventati ormai virali in rete sono stati tutti sospesi dal DAPA. Le nozze hanno preso parte in qualità di musicisti. Ed ancora andiamo a vedere gli altri fatti in primo piano. Adesso passiamo ai fatti di cronaca. Campania, 50% degli ospedali, pensate un po' è senza autorizzazione la lista nera raccontata proprio da queste pagine del mattino. Infatti da Sessa Aurunca a Castellammare di Stabia, un attimo, passando per Torre del Greco, Pollena Trocchia e per tutti gli altri comuni dell'Asno Napoli 3, dove l'autorizzazione che ha portato al calamoroso sequestro del Sarrocco di Sessa è una vera e propria chimera. Il giorno dopo i sigili emerge uno scenario a tinte fosche che potrebbe portare ad altre drastiche misure sui nosocomi campani. Il 50% delle strutture, infatti, non è possesso delle autorizzazioni necessarie per legge. Una fattispecie di tipo penale in Campania rispetto alla quale lavorano da più di due anni i carabinieri del NAS e anche quelli che sono i vigili del fuoco. Che sia chiaro, lo scopo degli investigatori non è tanto quello di chiudere nel perimetro penale le imbarazzanti vicende della sanità campana, quanto quello di mettere in sicurezza gli ospedali in cui si curano gli incolpevoli, ancora una volta incolpevoli cittadini che pagano appunto le pene di questa situazione. Ed ancora è cronaca sparatoria tra Roma e Finanzieri, due arresti a Giuliano. E' infatti una sparatoria avvenuta a ridosso della zona di Ponte Riccio, gli spari tra i militari della Guardia di Finanza e alcune persone di etnia a Roma. Infatti, intorno alle 22 di ieri, a pochi passi dai campi accanto alla zona Asi, le fiamme gialle hanno arrestato due persone, ma non è ancora chiara la dinamica dei fatti. E continuiamo ancora sul tema della cronaca. Una bimba di sette anni muore dopo una caduta, mistero sulle cause. E' infatti la bimba di sette anni della comunità Roma di Castellammare, la piccola a seguito di una caduta, si era ferita al ginocchio. Un banale incidente che invece è stato letale per la piccola che dopo poco ha cominciato ad avere febbre alta e lamentare forti dolori alla testa. Presso l'ospedale San Leorardo i medici hanno escluso che avesse contratto malattie infettive o la meningite, ma intanto nei condizioni della bambina continuavano a peggiorare il coma. La piccola è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale pediatrico Santo Buono di Napoli dove dopo 24 ore il suo cuore ha smesso di battere. Le sue condizioni hanno apparse subito gravissime, le ultime grida di dolore. La piccola le ha lanciate nell'ospedale napoletano, poi il suo cervello ha smesso di funzionare fino al decesso avvenuto poi nella serata di ieri. E ancora vediamo sempre sulla cronaca gli scippano il Rolex in centro paura per l'imprenditore Rainone. Probabilmente lo avevano puntato e ho notato il suo orologio e lo hanno seguito aspettando il momento propizio per agire. Forse conoscevano anche l'identità della vittima individuata, dettagli importanti sui quali ora stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Salerno agli ordini del tenente Bartolo Taglietti impegnati nel dare una identità ai due balordi che qualche giorno fa hanno scippato appunto il Rolex all'imprenditore Elio Rainone. E ancora andiamo a vedere i fatti che riguardano Caserta e la sua provincia. I medici assenteisti e intercettati, qua ci licenziano tutti e l'ospedale resta vuoto. Gli indagati sapevano dei controlli dei carabinieri ma non sembrano preoccupati. Stiamo parlando dell'ospedale del San Rocco di Sessaurunca. E infatti vediamo appunto in questo attacco di articolo qua o ci arrestano tutti quanti, ride o siamo stati e siamo tutti in grazia di Dio, tanto come si dice chi è senza peccato scagli la prima pietra. E questa è la clamorosa intercettazione tra due medici dell'ospedale di Sessaurunca intercettata ai carabinieri durante le indagini sull'assenteismo a San Rocco che ha coinvolto complessivamente 28 persone con 18 per cui è stato disposto l'obbligo della firma e che i carabinieri stessero indagando sulle essenze nella struttura ospedaliera da quanto emerge dalla intercettazione. I medici, pensate un po', ne erano addirittura al corrente. Dice quello che si rischia, dice quello che si rischia il posto di lavoro e ho detto e allora l'ospedale rimane vuoto. Ci licenziano tutti quanti, se per quello ci licenziano tutti, se per l'aggiornamento perché chi vuoi che non c'è arrivato vicino a quel marcatempo per fare la medesima cosa. Insomma, sembra davvero che durante queste intercettazioni siano emersi fatti concreti ossia proprio perché era un costume che riguardava un po' tutti, nell'ipotesi remota in cui tutti venissero licenziati ovviamente l'ospedale rimarrebbe vuoto e quindi una siffatta situazione sarebbe assolutamente deprecabile e per questo inaccettabile e probabilmente non si verificherà mai. Questo è quello che dicevano appunto i medici. Ed ancora cronaca estorsione miliardaria al Polo Calzaturiero, condannato Zagaria, il giudice della Corte d'Appello hanno inflitto infatti 10 anni per il capo clan, sconto di pena per Verde. Vediamo infatti, confermata la condanna per il boss Michele Zagaria, sconto di pena per Salvatore Verde. Questa è la sentenza pronunciata dalla sesta sezione della Corte d'Appello di Napoli a carico dei due accusati di aver vessato per anni con estorsioni centinaia di migliaia di euro agli imprenditori del Polo Calzaturiero di Carinaro. La Corte partenopea ha infatti confermato la condanna a 10 anni per il capo clan Zagaria già combinata in primo grado dal giudice Picciotti del Tribunale di Napoli. Per Verde, difeso invece dall'Avvocato Romolo Vignola, i giudici hanno rideterminato la pena in 10 anni complessivi 7 per l'estorsione al Polo Calzaturiero a cui si sommano altri 3 per la continuazione con un'altra sentenza a fronte di 13 anni inflitti in primo grado. E questa era l'ultima notizia di oggi della rassegna stampa. Ringrazio voi tutti per essere stati con noi, soprattutto ringrazio Tecnocampus che ci offre sempre questo momento di informazione. Vi invito a continuare a seguire i programmi di Teleprima e come sempre vi do appuntamento a domani. Buona giornata a tutti! Grazie! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus. Grazie! 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 Grazie!